Sei a fuoco almeno? Sai cosa stai per dire? Sei pronta? Io ho tante cose, quindi è utile. Gli uomini e donne sono due esseri viventi diversi e non si capiscono. Partita bene, partita bene. Lo sapevo che... Era partita bene, lo sapevo però. Non devi parlare. Va bene, ripapto. Tagliamo, tagliamo. Vai, vai, vai. Sono due esseri viventi. No, no, non mi piace che si fassi. Non mi piace. Io non so come cazzo più cazzo. Il suo accolto amatico cazzo. Non ci chiamiamo più cazzo. Non è verito. No. Guardati. Allora, faccio il po' di. Se rigira e dice aspetta, aspetta. No, io sono un po' di. Io sono un po' di. Ho letto un libro dove c'era scritto che appunto sta cosa di prima, uomini e donne sono due esseri viventi diversi. Però non si capiscono. Io penso, io donna penso, no, ma lui non mi capisce perché non mi ascolta, non mi piace parlare, è di poche parole. È poco sensibile. Grazie. È molto materialista e invece a me mi piace parlare, mi piace parlare dentro le cose. Ma lui non ti capirà mai. Loro sono fatti così, capito? Quindi ci vuole un equilibrio nelle cose, un mezzo. Non destra, ma un mezzo delle cose. Non guardare con la superficialità le cose. Andare oltre. E se ti piace una e se la vuoi scopare, purtroppo devi guardare dentro di lei, devi guardare in profondità. Non puoi andare da lei e gli dici dai scopiare, perché per lei non è soltanto una salata. È una buona idea. È una cosa che voglia. È una sensazione. Quei che c'è poco, eh. I movimenti che si fida. No, no, ma hai ragione. Ma perché altro si deve vedere la pagina di Paolo, siccome c'è il mio nome? Basta. Buone notizie. Io non c'è nessuna discussione. Ti basta. Vuoi dare un bacio ai nostri telespettatori? Un bacio, basta. Saluta, saluta. Non so ubriaca. È stata una persona della serata. È orribile, è orribile davanti. Sono contento. Qui le mie persone con cui sono in compagnia sono persone veramente carissime di cuore. Ognuno ha detto la sua. Come opinione di Luzio, mi marchano a più volte, a più riprese. Questa apertura di dialogo avrete riscontrato che oggettivamente parlando siamo ognuno di vedute diverse ma siamo piacevolmente con il sorriso in faccia a guardarci tra noi e a bere una percezione di bere in un papo senza contrasti o senza comunque sia attriti tra noi. Certo, una persona che mi sta chiedendo a più riprese di non volere apparire nel video. Eh no, non fai l'antipatica. Però io te lo dico in diretta anche se poi non c'è lo streaming. Dici che ci vuoi stare nel video. Dai, dai, dai. Dai, facci quel... Non vuole essere nuda. Ce la può fare, ce la può fare.